Prefettura, Comune, Agenzia del Demanio e Fondo Edifici di Culto hanno firmato stamane un accordo per il rilancio di piazza Plebiscito. In particolare la Prefettura mette a bando i locali del colonnato di San Francesco di Paola e il Demanio affida al Comune la gestione e la progettazione della parte ipogea della piazza. L'accordo raggiunto con il contributo di Curia, provveditorato alle opere pubbliche, soprintendenza, ministeri dell'interno e dei beni culturali, è destinato a cambiare il volto della piazza simbolo di Napoli, che con l'apertura dei locali sarà più viva e frequentata anche di sera. Si consegna alla città la concreta possibilità di una riqualificazione, una maggiore vivibilità di luoghi che finora erano esclusi, l'ipogeo, dove si potrà fare tantissimo soprattutto per la cultura, la piazza e i locali sotto il porticato che saranno oggetto nei prossimi giorni dell'emissione del bando, quindi davvero un risultato importantissimo. Agli investitori viene richiesta progettazione di qualità, sono ammessi bar e tavolini ispirati a un modello di livello europeo o veneziano, botteghe con le eccellenze artigianali e imprenditoriali napoletane, insomma un salotto allestito con stile e moderazione nel rispetto del luogo. Noi ci immaginiamo luoghi in cui ci possa stare più cultura, più intrattenimento, più economia, più commercio ovviamente nel rispetto della piazza che è una piazza di altissimo livello, quindi decoro e qualità e tutto lo faremo insieme ovviamente alla prefettura e alla sovrintendenza in particolare. Oltre alla superficie, il patto siglato in prefettura prevede la riqualificazione della parte sotterranea di piazza Plebiscito, un'area circolare finora gestita dalla curia e mai aperta al pubblico, che riproduce nel sottosuolo le dimensioni della chiesa sovrastante, con spazi e cupole che rendono l'ipogeo un luogo ideale per spettacoli, mostre ed esposizioni museali. È un'area meravigliosa, è composta da una grande aula centrale con quattro altre aule raccordate intorno, dei percorsi sotterranei davvero suggestivi e con un ingresso che avverrà proprio qui dal colonnato e dunque da due dei locali che sono oggi all'interno del colonnato. Qui il progetto è affidato al comune che nel giro di un anno conta di aprire a Napoletani e turisti un nuovo percorso archeologico di grande fascino alla scoperta dei misteri della città. Una piazza è ritrovata che si è sotto e tutta la parte dell'ipogeo, con la possibilità di realizzare un ulteriore progetto, vale a dire la connessione con il tunnel borbonico e dunque un ingresso qui dal sotterraneo di piazza del plebiscito con un'uscita dalla parte dell'area di via Morelli.